hey 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 what's up showtime ladies and gentlemen sono junior bud e oggi è tornato a trovarci junior kelly ciao bro bella raga questa è la prima intervista al mondo in cui i due protagonisti sono mascherati e alla fine uno dei due toglierà la maschera e non sarò io people non lo so questo non ve lo posso dire subito anyway dicevamo con junior kelly che è passato meno di un anno dalla tua prima viralissima volta in cui sei venuto qui a trovarci e poi in un anno sei cresciuto a livelli pazzeschi il tuo primo album ufficiale centro dentro e tra gli album più venduti in italia eh sì a quanto pare sì tempo a crederci anch'io è stato un anno però non me l'aspettavo non ti aspettavi che cosa però sì così bene ok la crescere no gli obiettivi ci stanno sempre però così bene anche l'istore tutto e poi adesso non parla non mi aspettavo tutto sto calore dalla gente